Ciao e bentornati sul mio canale. Innanzitutto grazie per essere qui, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanella così ogni volta che c'è un nuovo video verrete avvisati, lasciate un mi piace e un commento a questo video. Oggi vorrei guardare con voi un video che è stato girato quando ero ancora a ginnasta, un video molto molto bello, mi sono molto emozionata quando l'ho riguardato, quindi vorrei vederlo oggi insieme a voi. Durante questo video provate a pensare, a indovinare, vediamo chi di voi riesce a scoprire, a capire in che anno è stato girato il video e in quale palestra. Poi alla fine del video torniamo qua insieme così lo commento con voi, vi svelerò qualche segreto a riguardo. Buona visione! Tra gli attrezzi della ginnastica ritmica troviamo la palla, con questo attrezzo si possono eseguire movimenti di rotolamento, palleggi, grandi maneggi e lanci. È un attrezzo molto insidioso, ad esempio in squadra, perché nello scambio tra le ginnaste, quando si lancia tutte e cinque la palla, questa va ripresa fuori dal campo visivo o con un'altra parte del colpo o ad una mano. La palla rotola spesso fuori pedana quando c'è un errore ed è molto difficile da recuperare. Un altro attrezzo utilizzato nella ritmica è il cerchio. Con questo attrezzo si possono eseguire prilli, giri, rotolamenti e lanci. Il cerchio in squadra verrà utilizzato dall'anno prossimo, per quest'anno non è presente nel programma di gara. Le clavette sono un attrezzo molto difficoltoso della ginnastica ritmica, ma anche molto interessante, poiché è l'unico attrezzo composto da due parti. Con le clavette si possono eseguire movimenti di giro, mouliné, grandi lanci, asimmetrici e piccoli lanci anche. In squadra sono particolarmente difficili, perché nell'esercizio con cinque paia di clavette troviamo dieci attrezzi in pedana e quindi non è facile gestirlo. Il nastro è considerato forse l'attrezzo più difficile della ginnastica ritmica. Si possono creare facilmente dei nodi o comunque il lancio non è semplice da eseguire. Con questo attrezzo si possono fare diversi tipi di movimenti, le figure come le serpentine o le spirali, i maneggi come le circonduzioni o i movimenti ad otto, gli échappé, i lanci a boomerang e i lanci dorsali, per avanti, trasversi. La squadra italiana si è sempre distinta per l'originalità delle sue composizioni. Infatti sono state create numerosi passaggi molto spettacolari che sono rimasti nella storia di questo sport. Eccoci qua, bellissimo questo video, mi piace veramente tanto, e lo guardo molto spesso. Allora, l'anno era il 2014, la palestra è quella di Follonica, ovviamente, Toscana, quindi sede di allenamento estiva della squadra nazionale. Tante estate passate dentro quelle mura, quindi anche quella palestra per me è un ricordo favoloso. E questo video è stato girato pochissime settimane prima dei mondiali di Izmir, appunto nel 2014, e quindi era un momento di tensione, di adrenalina, però un momento positivo comunque, un momento di grandi aspettative. Poi ecco, il mondiale è stato un mondiale magico perché abbiamo vinto la medaglia d'argento, non me lo scorderò mai, vice campionessi del mondo, è davvero davvero un bel ricordo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e un commento, iscrivetevi al canale, e ci vediamo qui per altri video. Grazie, ciao!